Dal 16 al 19 aprile a Danaheim in California si è svolta l'attesissima celebration di Guerre Stellari, attesissima perché anticipa il nuovo episodio della saga. Tra i tanti appassionati che hanno preso parte al grande evento anche un gruppo di ravennati, i membri di Empira. È il punto massimo per tutti i fan, insomma è la convention mondiale più famosa che esiste, anche perché è l'unica, dove si ritrovano tutti i fan di Guerre Stellari, appuntamenti, filmati, novità, mercatino, insomma c'è veramente di tutto e di più, insomma. È il paradiso per un fan di Guerre Stellari. E senti, quindi come è andato in questo paradiso? Soddisfatti, emozionati anche? Ma sì, emozionatissimi perché appunto sono state svelate un sacco di novità riguardante il nuovo film in uscita a dicembre, il primo spin-off in uscita a dicembre 2016, insomma tante novità, tante immagini nuove, il teaser trailer, le armature, i costumi originali che onestamente è stata una sorpresa, non lo sapevo. E' stata anche una grande sorpresa il fatto che fosse pienissimo, è stata un po' l'edizione dei record. E' andato sold out il biglietto di sabato, sono andati sold out i biglietti dei quattro giorni, e quindi è stata un po' una cosa molto più grande di quello che mi aspettavo. Io avevo già fatto altre due edizioni, ma come questa era la prima, insomma. C'era talmente tanta gente che alcuni appuntamenti non siamo riusciti a vederli, di cause file e chilometriche. La fila per il panel, la conferenza del regista e della produttrice J.J. Abrams e Catherine Kennedy, c'erano delle file 20 ore prima, quindi noi siamo arrivati all'ultimo e già era tardi, quindi sì, bellissimo, emozionante e spero di poterlo rifare ancora, insomma. La cosa che ti ha colpito di più, il ricordo indelebile, quale sarà? Beh, sicuramente la sala in cui erano esposti i costumi di scena del nuovo film, di episodio 7. C'era una stanza particolare, un po' in penombra, allestita in maniera molto suggestiva, dove c'erano tutti i costumi, almeno quelli principali, usati nel film, e soprattutto il robottino nuovo, il nuovo robottino che è BBA, BBA 88, questa evoluzione, diciamo così, anche a livello di storia di quello che è la R2-D2, che era lì, bello esposto e tutti quanti potevano vederlo. Tra l'altro durante la conferenza che ha tenuto J.J. Abrams è apparso sul palco e ha subito stupito tutti perché quello che sembrava essere una figura in CGI, quindi in grafica, invece era un oggetto reale, funzionante veramente, che girava su questa sua palla e aveva la testa che si muoveva su e giù all'interno, sopra la palla. Quindi questa è stata la cosa, secondo me, più emozionante. Avete testimoniato gran parte della vostra avventura, anche attraverso video, immagini, che avete pubblicato sul vostro profilo di Facebook. Avete anche, vi siete portati a casa anche qualche gadget particolare, qualche ricordo materiale? Beh, sì, sì, certamente. All'interno della Celebration, oltre alle varie conferenze, a tutte quante le cose da vedere come oggettistica, come scenografie, eccetera, c'erano anche tanti stand dove si potevano acquistare gadget di tutti i tipi, ovviamente di qualsiasi genere, e alcuni erano anche molto esclusivi perché addirittura nello stand della Lego c'erano alcuni set che erano specifici proprio per questa Celebration, si trovavano solo lì, e Roby è riuscito ad accaparrarseli con una notevole fila, anche in questo caso, però è riuscito ad averlo. E non solo questo, poi ci sono stati anche poster, borse particolari, c'era veramente di tutto che si poteva vedere, che si poteva ammirare, e in alcuni casi anche acquistare. Quindi il prossimo appuntamento sarà la prossima Celebration? Il prossimo appuntamento, prima della Celebration, ci sarà l'uscita di Episodio 7, che è quello che attendiamo di più in assoluto, anzi è diventato quasi maniacale questa attesa. Ci sono un sacco di altri appuntamenti, abbiamo il May the Fort, che è il 4 maggio a Milano, e in più anche con Empira faremo qualcosina, insomma, quest'estate sempre nella zona di Ravenna. è sempre un'attesa, è sempre un'attesa, questo 16 dicembre prima o poi arriverà. Ah sì, poi ci sarà la prossima Celebration, che è a Londra, si sa già che sarà a Londra, quindi ci stiamo preparando anche come Empira, chissà, ci saranno qualche sorpresa anche da questo punto di vista.